Nel punto vendita diretto dei piccoli produttori del centro Abruzzo letture peligne risparmio energetico e sapori autentici a lume di candela guadagniamo quello che non spreghiamo e con questo motto che terra viva il punto vendita e collettivo dei piccoli produttori locali del centro Abruzzo aperto a Sulmona nell'estate 2013 aderisce il prossimo 24 febbraio a Millumino di Meno, iniziativa decennale pensata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai2 dedicata alla sensibilizzazione verso la riduzione dei consumi. A partire dalle ore 17 nei locali di via Federico II nei pressi di piazza Garibaldi si svolgerà un reading di letture di autori locali a lume di candela accompagnato da una ricca degustazione dei prodotti del territorio interno abruzzese. Protagonisti gli stessi autori di saggi, romanzi e poesie dedicate al centro Abruzzo che già arricchiscono man mano la biblioteca peligna adiacenti al punto vendita. Parteciperà anche il popolare attore sulmonese Alessandro Lucci che già cura il programma La memoria afferma la memoria che proseguirà anche dopo l'evento di Millumino di Meno. Il consorzio Terra Viva darà poi concreto seguito all'evento di Millumino di Meno per convertire la propria illuminazione interna da lampadine ad incandescenza a lampade a LED riducendo di oltre il 70% il proprio consumo energetico. Nel punto vendita Terra Viva ricordiamo è possibile acquistare formaggi, pane fresco, biscotti, ortaggi biologici, olio, pasta ed è gestito su iniziativa del Gall.